Buongiorno a tutti. 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 Ecco, 6 giorni, una chiesa della prima, e allora quattro sono stati costruiti conventi, hanno costruito ancora la chiesa, e allora è una chiesa dedicata alla verità di marina. Ancora c'è stata una promessa da parte della Madonna nel settimo secolo dopo Cristo, quando apparve la Madonna a un santo chiamato Giovanni Kama, e la sua chiesa ora qui è a nome di Giovanni Kama, a cui appartiene la Madonna, e apparsa la Madonna, e portandogli una promessa che in questa terra, questa terra, fa la grande fioritura. Questa terra che venne calipestata con i piedi di Gesù, è anche la terra dove la Madonna dette una promessa a Giovanni Kama di costruire ancora una chiesa all'uomo suo. E questo è il punto di effort che si occorre nel mondo, dopo che c'è quello che era era messo di c whippedere da questa terra, quindi l'arriamo nel senso ehmali che nel senso di scuola, che vale nel senso di un sinore, e dicono che il nome del l'asile e il ha già fatto di seriarsi! E l'asile del l'asile alla rara del l'asile, alla le porsi del l'asile al deserto, che si trattano attraversa il segno di dei attraversi, a cento verso c'è se tenete il Dio del Messia, quello con l'altro, ma non è che se non è. Noi chiamiamo questo monastero, il monastero della Vergine Maria, dei padri seriani, e questo rispecchia una cosa molto importante, perché una volta in questo monastero ci rilevano ancora dei seriani e altre nazionalità, e questo rispecchia nello stesso tempo la comunione e l'unione nella Chiesa tra le diverse nazionalità. Questo monastero è una testimonianza storica, perché è testimone dalla nascita di Gesù fino al IV secolo, poi dal IV secolo più po' con dei documenti, con delle costruzioni che ci sono all'interno di questo monastero. Infatti c'è una tavola funeraria scritta in lingua popolta all'interno, e questa tavola funeraria, questa sfede ricorda che è stata trasferita la salva del santo, il santo Vatitama, ed è il sepolto all'interno della Chiesa qui. Quattro di Qadirma, il santo Vatitama, è un po' con il Chiesa, e un po' con il Cattolato, e un po' con il Cattolato, il confio di Qadirma, per alcuno di Qadirma, per fare il Qadirma, per fare il Qadirma, quindi un po' con il Qadirma di Qadirma, grazie a tutti 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 grazie a tutti